ciao da michelangelo e benvenuti alla sesta lezione del corso diciamo che adesso diamo una sferzata comincerei la lezione in questo modo quando il buio finirà e nel tempo finirai come neve nella neve nel silenzio mi sentirai quando il tempo finirà e nel tempo finirò come neve nella neve nel silenzio ti sentirò questo scritto del papà di dylan dog tiziano sclavi e questa musica ci portano all'autogestione di questa sesta lezione autogestione perché intanto non volevo farvi esempi forvianti ma soltanto darvi un piccolo la con questo breve scritto dell'autore in questa lezione si parlerà di scrittura emozionale senza star tanto a menare il camperlaia come si suol dire direi che autogestione è la parola adatta perché sceglierete voi quella che è l'emozione che tratterete durante gli esercizi sì esercizi al plurale perché si parla di fare vari step emozionali intanto dovrete scegliere un'emozione quello che posso dirvi è che dato il semplice fatto per il quale è sempre meglio scrivere di ciò che si conosce e questo è tremendamente severo anche nella fantascienza anche nell'horror questo nel senso che non bisogna per forza essere un serial killer per scrivere un libro thriller ma entrare in un gioco mentale per il quale si diventa il personaggio ma qui noi dobbiamo partire ancora da prima cioè da noi stessi quindi scegliere un'emozione che in questo momento stiamo provando rabbia felicità solitudine sconforto quindi scriviamo sul nostro foglio di carta l'emozione che vogliamo trattare semplice scegliete rabbia scrivete rabbia vi siete innamorati da poco scrivete amore a questo punto prendetevi del tempo descrivete quell'emozione non dovete descrivere qualcosa che ha a che fare con quell'emozione ma dovete descrivere secondo voi quell'emozione non è semplicissimo ma lo step successivo è ancora più complicato dovete far vostra quell'emozione e scrivere senza descriverla una situazione che vi fa vivere quella emozione quella che avete scelto ecco che ritroviamo anche la parte musicale se volete prendete una musica e leggete quello che avete scritto con una musica che vi ispira scrivetelo senza musica all'inizio poi una volta che avete il testo provate a leggerlo con questa musica che vi ispira vedrete che cambia anche la cadenza e magari se davvero vi ispira molto provate a riscrivere lo stesso testo in base all'emozione che quella musica vi ha dato la scrittura emozionale come capirete è alla base dello scrivere anche non solo le situazioni ma tutti i personaggi qui vi chiedo di essere giudici all'atere di guardare quell'emozione all'inizio descrivendola e basta come se non ne fate parte per poi entrare dentro quell'emozione e raccontarla attraverso una situazione quindi niente descrizione lo so non è semplicissimo ma è una tecnica che porta i suoi frutti potete se volete poi provare con diverse emozioni io come vi ho detto all'inizio mi auspico che scriviate l'emozione che più si avvicina al momento che state vivendo perché è molto più semplice riuscire a sentire quelle vibrazioni che ci sono e che l'emozione porta nell'augurarvi quindi buona scrittura vi do appuntamento al prossimo giovedì magari lasciate un like commentate e vi ringrazio dell'attenzione ciao da michelangelo gregori alla prossima ciao 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 ciao